Allora, buon pomeriggio e bentrovati a questa esercitazione di meccanica dei robot. Nell'esercitazione di oggi, quello che andremo ad indagare è un notebook in cui cerchiamo di integrare numericamente le matrici di rotazione. Questo notebook è reso disponibile nella cartella condivisa su Teams e potrete quindi andare a ovviamente sperimentare con esso. Allora, vediamo un po' di cosa si tratta. Quindi, vediamo un attimino com'è organizzato il materiale e com'è che può essere gestito. Quindi, per prima cosa, vediamo un attimo qual è il materiale. Quindi, il materiale nelle cartelle è costituito da questi file. Quindi, qui avete sostanzialmente questo file, numerical integration of rotation matrices, che è il notebook che abbiamo aperto. e vedete, all'interno della stessa cartella in cui è contenuto il notebook, sono contenute anche due cartelle dove c'è, che si chiama odsolve, al cui interno c'è un package matematica che si chiama esattamente nello stesso modo, e un package che si chiama Skull Calculus Pro, che è il package in cui abbiamo implementato delle funzioni utili per il corso. D'accordo? Quindi, diciamo, la struttura delle cartelle deve corrispondere a questa, in modo tale che adesso nel notebook principale verrà aggiunta, dal patto di ricerca, la cartella in cui si trova questo notebook, e all'interno di questa cartella si presuppone che ci siano due cartelle, queste odsolve e Skull Calculus Pro, al cui interno ci sono dei file che si chiamano esattamente come le cartelle. Quindi questa è la struttura che si presuppone che ci sia perché effettivamente la chiamata di funzioni all'interno del notebook va da buon fine, d'accordo? Quindi se in questa parte preliminare, in cui si va a fare il caricamento dei pacchetti, quello che si fa, vedete, è che si aggiunge la directory dove è il notebook, si verifica che, appunto, la directory sia questa, si appende in prima posizione al path la cartella dove c'è il notebook, e, vedete, si vanno a caricare questi due pacchetti, diciamo, artigianali nostri, all'interno della cartella odsolve, c'è il file odsolve.m, e dentro la cartella Skull Calculus Pro c'è il file Skull Calculus Pro.m, d'accordo? Quindi questa è la struttura che si presuppone di avere, d'accordo? Allora, vediamo un attimo alcune funzioni grafiche che ci serviranno. Quindi, vedete, noi adesso cosa faremo? Integreremo numericamente delle matrici di rotazione, d'accordo? Che si presuppone siano funzioni del tempo. E per vedere l'effetto dell'integrazione di queste matrici di rotazione, ruoteremo dei solidi, ok? Quindi, quello che potremmo fare, ad esempio, utilizzando la libreria di matematica, potremmo prendere, ad esempio, un dodecaedro, e matematica sostanzialmente consente di estrarre le informazioni di un dodecaedro relativamente alle coordinate dei suoi vertici, e noi queste le immagalizziamo in questi solid vertex coordinates, e contemporaneamente, prendendo invece l'indice delle facce, matematica ci restituisce sostanzialmente una sorta di connettività dei vari nodi che vanno a formare una faccia, ok? Inoltre, in questa parte qui, andremo a settare delle opzioni grafiche per quanto riguarda le primitive grafiche, list plot, plot 3D e graphics 3D. Cioè, andiamo a scegliere le font, andiamo a scegliere la dimensione delle immagini, le etichette, e per quanto riguarda, ad esempio, le graphics 3D, vorremmo associare sempre agli assi le etichette x, y e z, e così via, ok? Quindi, quello che facciamo è, adesso velocemente ripassiamo alcune nozioni di integrazione numerica che ci servono, appunto, per risolvere il nostro problema, e, in pratica, richiamiamo il concetto che se abbiamo un sistema in forma di stato, quindi x punto uguale a f di x t, quindi in generale è un sistema a tempo variante in cui, con delle condizioni iniziali, che x al tempo 0 valga x con 0, quello che possiamo fare è, possiamo, ad esempio, calcolare una approssimazione per la soluzione che chiameremo x di k, della soluzione vera che è definita come x al tempo tk, a intervalli discreti. Definiamo h piccolo come il passo di integrazione e, ad esempio, se consideriamo il metodo più semplice, cioè un metodo esplicito, possiamo scrivere l'approssimazione per cui consideriamo che xk più 1 sia pari a xk più il valore della f calcolata di sk, tk, il passo e, ovviamente, indipendenza della funzione stessa che dobbiamo integrare. Un'altra cosa importante è richiamare il concetto di errore di troncamento locale, che sostanzialmente, cioè molto velocemente, rappresenta di fatto la differenza fra il valore della soluzione vera al tempo tk più 1 e la sua approssimazione di sk più 1 data dal metodo numerico che stiamo integrando, che stiamo utilizzando, ok? Quindi, in questo caso, ad esempio, se questa è la soluzione vera e la soluzione di sk più 1 viene approssimata come abbiamo visto prima, ovviamente la differenza sarà pari esattamente a questa quantità che ho illuminato. Inoltre, una cosa abbastanza importante è l'ordine del metodo di integrazione. Cioè, un metodo di integrazione si dice di essere di ordine p se l'errore di troncamento locale è di ordine h alla p più 1, ok? Quindi se h è il passo di integrazione, l'errore di troncamento è un infinitesimo, diciamo, di ordine superiore a p, cioè in particolare di ordine p più 1, ok? Quindi, richiamiamo velocemente alcuni metodi di integrazione un po' più comuni. Ad esempio, il metodo di Euler in avanti e questo metodo ha, diciamo, ordine più uguale 1. Sostanzialmente, vediamo che l'approssimazione viene fatta in questo modo. x al passo k più 1 viene approssimato come xk più il passo per il valore della funzione f, cioè la funzione, quello che viene definito anche il campo, calcolato in corrispondenza esattamente di xk e tk, no? Quindi questo è un metodo esplicito, si dice anche Euler esplicito. Mentre Euler indietro, quindi backward Euler, è un metodo, diciamo, stabile in cui l'approssimazione al passo k più 1 è pari al valore dello stato al passo k più h per il campo calcolato all'istante k più 1, quindi al successivo, ok? Quindi questo è un metodo implicito. Mentre, ad esempio, richiamiamo che il metodo di Runge-Kutta del quarto ordine è un metodo in cui sostanzialmente il valore dello stato al passo k più 1 è pari al valore dello stato al passo k più questa sorta di combinazione, diciamo, di media pesata, quindi h sesti, quindi h è il passo, quindi h sesti moltiplicato a 1 più 2 a 2 più 2 a 3 più a 4, dove, vedete, questi valori a 1, a 2, a 3, a 4 sono calcolati in questo modo. Quindi a 1 è calcolato come il valore del campo isk e tk, ok? Quindi esattamente nel valore, diciamo, del nodo al passo k. a con 2 è calcolato a isk più h mezzi per a 1 e a tk più h mezzi, mentre a 3 è calcolato a isk più h mezzi per a 2, quindi, vedete, richiama come questo il valore precedente, così questo a 2 l'abbiamo calcolato precedentemente, sempre col tempo a tk più h mezzi, e infine a 4 è calcolato a isk più h per a 3, dove a 3, naturalmente, è stato calcolato precedentemente, e a tk più h, quindi esattamente al nodo successivo, no? Della nostra discretizzazione, ok? Quindi questo è, in questo senso, un breve richiamo di alcuni metodi che utilizzeremo noi adesso, appunto, nell'integrazione di matrici di rotazione, Un esempio di utilizzo di questi metodi, ecco, la cosa importante da notare è che questi metodi di integrazione potrebbero essere disponibili anche in maniera nativa in matematica, ma perché possiate avere un esempio di come si possono implementare dei metodi numerici per l'integrazione di equazioni differenziali in forma di stato, ma ovviamente in generale non lineari, appunto ho definito questo package che si chiama esattamente odisolve, ok? Quindi, ad esempio, possiamo andare ad aprire questo odisolve naturalmente però, ora è qui, non riesco a vederlo, ecco, magari lo vediamo successivamente, ad ogni modo, questi metodi consentono di andare a risolvere delle equazioni differenziali. Quindi potete prenderli un po' anche come esempio per vedere come si possono programmare questa implementazione. Un esempio che faccio è applico esattamente il metodo di Runghekutta del quarto ordine per l'integrazione del famoso attrattore di Lorentz. Quindi l'attrattore di Lorentz è un sistema di equazioni differenziali molto, diciamo, interessante, importante nei sistemi dinamici, in cui possiamo andare a vedere, vedete, definito in questo modo, abbiamo che diciamo x1 punto uguale a questo coefficiente per x2 meno x1, x2 punto uguale a questa quantità, quindi x2 punto uguale a x1 per questo coefficiente meno x3 tutto meno x2 e x3 punto uguale a x1 per x2 meno quest'altro coefficiente Lore b per x3, ok? Quindi qui noi andiamo a definire sostanzialmente il valore del campo in funzione di x1, x2 e x3, qui definiamo quali sono le variabili indipendenti, qui diamo una condizione iniziale, qui definiamo qual è l'orizzonte temporale in cui noi vogliamo integrare l'equazione differenziale, quindi ad esempio qui integriamo per 20 secondi, ipotizzando di partire al tempo zero con uno step di 0,025 secondi, d'accordo? Quindi vediamo che se andiamo a plottare la traiettoria del nostro sistema dinamico a partire dal punto verde, punto iniziale, fino al punto rosso, vediamo che le traiettorie formano questo pattern molto carino che è definito una sorta di farfalla, vedete? Soltanto che è una farfalla diciamo tridimensionale, quindi la vediamo abbastanza bene. E può essere interessante andare a vedere, appunto con matematica, potete prendere spunto su come si può costruire utilizzando un manipulate la creazione di questa traiettoria, semplicemente andando a ripescare le soluzioni indicizzate mediante un indice I immagazzinate in questa lista sostanzialmente chiamata Sol Lorenz, a cui viene applicato delle primitive grafiche che poi vengono chiaramente abbellite con delle indicazioni sui colori, e qui ad esempio possiamo andare a vedere qual è l'evoluzione della traiettoria a partire dal punto iniziale. Quindi questo rappresenta com'è che di fatto evolve le traiettorie in funzione del tempo nello spazio x1, x2, x3, lo spazio di stato in cui è definita questa equazione di differenza. Naturalmente qui possiamo anche un pochino decelerare per apprezzare meglio l'andamento di questa soluzione. Vedete come la soluzione parte dal punto verde e man mano che evolve verso la fine diventa sempre più rosso. Alla fine diciamo della sua potrei controllarlo manualmente alla fine della sua evoluzione il punto finale diventa rosso mentre parte dal punto verde. Quindi questo è un esempio di applicazione per farvi vedere di questa funzione rungcutta che di fatto prende un campo vengono definite le variabili indipendenti la condizione iniziale l'orizzonte di integrazione e lo step di integrazione. Ok? Restituisce in uscita una lista possiamo anche vederla questa Sol Lorenz in cui vengono rappresentate a partire dalla condizione iniziale tutte le coordinate che rappresentano i punti della traiettoria che sono soluzioni di queste equazioni differenziali. Quindi qui potete andare a sbizzarrirvi e entrare un pochino nel merito di come è fatto questo pacchetto. D'accordo? Ecco, la cosa che adesso noi vogliamo andare a vedere è di fatto com'è che sostanzialmente possiamo integrare una matrice di rotazione. e per fare questo forse la cosa più interessante può essere andare appunto a riprendere un pochino la teoria delle rotazioni e vedere la relazione che c'è fra le rotazioni e la velocità angolare. Quindi sicuramente una cosa che si può fare possiamo un attimo adesso condividere uno schermo del lightpad in cui vado un attimo adesso a richiamare delle informazioni che abbiamo già un po' viste da cui possiamo ricavare delle informazioni sulla diciamo cinematica differenziale delle matrici. Quindi noi partiamo da definire una matrice RGL che è una trasformazione di coordinate da L a G ovvero l'abbiamo visto l'abbiamo interpretato anche come uno spostamento dalla configurazione definita da G verso L espressa ancora nel sistema di riferimento G quindi come se la matrice RGL rappresentasse effettivamente una rotazione che viene applicata diciamo a un corpo rigido che lo porta dalla configurazione G verso la configurazione L e tutta questa cosa è descritta nel sistema di riferimento di partenza cioè in G naturalmente sappiamo che una matrice di rotazione è una matrice ortogonale particolare con di terminante più 1 quindi R per R trasposto fa l'identità e se noi prendiamo questa espressione e la deriviamo rispetto al tempo scriviamo che RGL punto per RGL trasposto più RGL per RGL punto trasposto è uguale a 0 quindi se portiamo questo termine a destra dell'uguale li cambiamo di segno possiamo applicare l'operatore di trasposto a tutta questa matrice quindi mi si scambiano l'ordine delle matrici interne queste quindi di fatto quella che mi rimane sostanzialmente è la definizione del fatto vedete che questa matrice qua è uguale a meno la sua trasposta perché quello che ho qui dentro è esattamente quello che ho qui quindi questo cosa mi dice mi definisce che la matrice RGL per RGL trasposto è una matrice antisimmetrica e questa matrice antisimmetrica rappresenta esattamente la versione appunto di matrice antisimmetrica del vettore velocità angolare infatti se noi abbiamo un corpo rigido che ruota attorno ad un punto fisso quindi l'origine in particolare di G sappiamo che la velocità lineare di un punto è pari a ω vettor di G quindi in particolare quello che vi faccio osservare è che con questa notazione ω GL in G cosa abbiamo individuato vedete qui l'ho messo un po' più a fuoco naturalmente avete anche queste note quindi potete andare un attimino a riguardarle questa velocità angolare rappresenta la velocità angolare del moto del sistema di riferimento L rispetto al sistema di riferimento G cioè come si muove L rispetto al sistema di riferimento G e andare a scrivere le componenti di questa velocità angolare nel sistema di riferimento G d'accordo quindi esattamente l'apice qua su rappresenta di fatto il sistema di riferimento in cui si vanno a proiettare le componenti e quindi di fatto la relazione che mi dice qual è la velocità lineare di un punto in un corpo rigido è che PG punto è uguale a ω cappuccio per PG con la versione diciamo di matrice antisimmetrica neutralita con le componenti del vettore velocità angolare in componenti G d'accordo ma naturalmente se partiamo della ben nota relazione che c'è fra le componenti in G e le componenti in L di uno stesso vettore mediante la matrice RGL derivando rispetto al tempo possiamo scrivere che PG punto è uguale a RGL punto per PL ma invertendo quindi volendo scrivere un'espressione in cui in ingresso non abbiamo P con L ma abbiamo P con G quello che andiamo a fare è andiamo a invertire questa equazione e quindi ci scriviamo il P con L come RGL trasposto per P con G e quindi qui vedete mi appare sostanzialmente questa matrice siccome qui ci deve essere una corrispondenza questa espressione è esattamente uguale a questa quello che deve essere vero è che questa matrice deve essere uguale a questa ok quindi abbiamo dimostrato che la matrice omega GL in G è calcolabile come RGL punto per RGL trasposto d'accordo quindi in sostanza che si può facilmente andare a calcolare la matrice antisimmetrica che rappresenta la velocità angolare di un corpo rigido andando a moltiplicare la derivata temporale della matrice di rotazione per la sua per la matrice di rotazione trasposta ok quindi è evidente che se uno prende questa versione che definisce vedete sbilanciata in cui siamo andati a definire la velocità angolare come matrice antisimmetrica se noi andiamo a prendere questa espressione qua e la post moltiplichiamo per RGL trasposto otteniamo di fatto che RGL punto ok cioè la derivata temporale della matrice di rotazione è pari alla matrice antisimmetrica della velocità angolare per la matrice di rotazione stessa ok quindi in pratica questa versione mi lega le derivate temporali della matrice di rotazione vedete RGL punto con la matrice RGL attraverso questa matrice antisimmetrica in componenti G vedete l'apice che rappresenta la cosiddetta velocità angolare spatial cioè le componenti della velocità angolare in versione di matrice antisimmetrica in un frame globale d'accordo quindi noi adesso cosa possiamo dire possiamo esattamente usare questo tipo di relazione perché se noi conosciamo la orientazione di un corpo rigido codificata in una matrice RGL al tempo zero ok quindi una condizione iniziale integrando questa equazione differenziale ipotizzando che venga data in ingresso la velocità angolare del corpo rigido possiamo integrare questa equazione differenziale quindi calcolarci la matrice RGL di t che rappresenta in grande l'orientazione del corpo rigido quando è soggetto a questa velocità angolare quindi lui evolve nel tempo sulla base di cosa gli dice questa matrice che rappresenta la velocità angolare chiaro? quindi questo è esattamente quello che vorremmo andare a fare andare ad attaccare l'integrazione di questo sistema di equazioni differenziali diciamo in forma matriciale ok ecco un'osservazione naturalmente quell'equazione questa equazione qua è una versione diciamo molto compatta delle formule di Poisson perché se noi ci ricordiamo che possiamo andare a mettere la matrice RGL non rappresenta altro che NGL SGL AGL cioè le componenti dei versori della terna L no? i componenti nei versori della terna G ok cioè la proiezione dei versori NL normal sliding e approach quindi NSA le componenti di questi versori nel sistema di riferimento G quindi sappiamo bene che la matrice RGL esattamente ha per colonne le componenti dei versori della terna L proiettate nella terna G naturalmente la matrice RGL RGL punto avrà al suo interno derivate temporali dei versori corrispondenti no? Quindi la relazione che rappresenta questa equazione differenziale matriciale di evoluzione se volete della matrice di rotazione in funzione della sua configurazione diciamo iniziale e della matrice di la matrice della velocità angolare se la vado a spezzettare nelle varie componenti questo mi dice che NGL punto uguale a omega vettore NGL SGL punto uguale a omega vettore SGL AGL punto uguale a omega vettore AGL e queste naturalmente sono le formi di Poisson che mi dicono che la temporale di un versore è omega vettore il versore stesso d'accordo? Ecco una cosa che può essere interessante se io questa espressione qua la voglio adesso andare a esplodere perché sia più chiara naturalmente posso scrivere che le componenti di una matrice RGL le chiamo RG generiche e che quindi la derivata temporale di quella matrice prevede il calcolo delle derivate temporali di tutte le componenti è uguale alla matrice antisimetrica costruita a partire dalle componenti del vettore velocità angolare moltiplicato per la matrice stessa d'accordo quindi questa è un'equazione differenziale matriciale che però se volete la possiamo anche diciamo vettorializzare nel senso che la possiamo di fatto semplicemente andare a fattorizzare quindi andare se volete a srotolare le componenti della matrice in un unico vettore quindi la matrice 3x3 ha 9 elementi andiamo a costruire un vettore che è costruito diciamo andando a organizzare gli elementi della matrice diciamo in questo modo ok quindi prendiamo questi 3 ci attacchiamo questi 3 poi ci attacchiamo questi 3 e li mettiamo in un unico vettore in verticale dopodiché andiamo a prendere questa espressione e la andiamo a fattorizzare rispetto alle componenti di questo vettore qua organizzato come un vettore a 9 componenti d'accordo quindi quello che andiamo a riscrivere in una forma se volete più vettoriale questo ops questo sistema di equazioni differenziali matriciali e quindi possiamo arrivare ad una forma di questo tipo di questo tipo in cui se andiamo a chiamare con r vettore gli elementi della matrice r grande e andiamo a chiamare con questo omega grande gl in g la versione che si adatta a questa scrittura della velocità angolare abbiamo che la matrice questa matrice qua diventa una matrice vedete molto sparsa una matrice chiaramente 9 per 9 che deve essere in grado di andare a moltiplicare un vettore a 9 componenti della matrice di rotazione e dare un'uscita a un vettore a 9 componenti delle derivate delle componenti della matrice d'accordo quindi questo è quello che noi adesso andremo andremo a fare cioè ipotizzeremo di voler risolvere questo sistema di equazioni differenziali in cui abbiamo una velocità angolare in funzione in generale del tempo costante in particolare nell'esempio che vedremo e cercheremo di integrare questa equazione differenziale rispetto alle componenti della matrice che quindi mi diranno come evolve nel tempo l'orientazione di un corpo rigido soggetto a una certa velocità angolare d'accordo quindi in questa parte qui vado a richiamare abbastanza quindi questo scusate non posso un attimo nascondere posso andare a richiamo un po' brevemente quello che abbiamo visto adesso in forma un pochino più estesa con queste note che vi metterò a disposizione quindi questa operazione che facciamo è esattamente quello che vi dicevo cioè andiamo a prendere le componenti di una matrice r le andiamo a applicare questa funzione flat cioè le andiamo a srotolare cioè la spiaccichiamo in una lista nove componenti e andiamo a definire nel campo f il prodotto fra la matrice per la velocità angolare omega riportata in forma matriciale e il prodotto di questa matrice antisimmetrica con la matrice di dotazione ok quindi di conseguenza andiamo a fare questa operazione perché ci viene questa forma molto semplificata perché in questo caso noi andiamo vedete a costruirci una matrice r che è in generale costruita in maniera molto automatica utilizzando un table trasformando in espressione qualcosa che inizialmente è una stringa che viene fatta ciclare sui valori i e j che vanno da 1 a 3 e definiamo una velocità angolare 001 quindi ipotizziamo che il nostro corpo rigido sia soggetto ad una velocità angolare unitaria lungo l'asse z e quindi partendo da una certa configurazione vogliamo capire com'è che questo corpo andrà a ruotare d'accordo quindi vogliamo vedere di integrare numericamente questo sistema che naturalmente poi possiamo risolvere in questo caso semplice anche in forma chiusa ma vogliamo appunto vedere vari metodi di integrazione come si comportano rispetto all'accuratezza di integrazione d'accordo quindi definiamo le condizioni iniziali che sono una matrice di rotazione che è l'identità 3x3 e di conseguenza le condizioni iniziali in termini vettoriali non saranno altro che una versione diciamo srotolata della matrice identità in condizioni iniziali quindi questa x con 0 vedete sarà sostanzialmente 100 0 1 0 0 0 1 0 1 cioè la versione di una matrice identità scritta come un vettore a 9 componenti in cui abbiamo srotolato quindi abbiamo come dire ispezionato per righe la matrice e abbiamo steso queste varie righe in un unico vettore colonna che rappresenta il nostro stato quindi questa è una cosa abbastanza interessante integriamo fino a un intervallo a un orizzonte temporale più di 20 secondi stabiliamo un passo di integrazione di 0.05 secondi quindi noi sappiamo chiaramente che per una velocità angolare costante la soluzione del sistema r punto uguale ω cappuccio per r che è di fatto il sistema che andiamo adesso a dover integrare se la matrice ω è costante è la soluzione in forma chiusa è presente e è scritta come r di t uguale alla e ω cappuccio per t per la configurazione della matrice r al tempo 0 quindi mediante l'esponenziale di matrici in cui la nostra matrice dinamica era esattamente la matrice et ω cioè la matrice ω cappuccio che quindi è la matrice antisematica costruita a partire dalle componenti del vettore velocità angolare ω quindi naturalmente questa soluzione la possiamo o calcolare direttamente con matematica come facciamo quindi col matrix exp che è l'esponenziale di matrice che ci fornisce matematica come funzione nativa quindi possiamo vedere che è una funzione nativa andiamo sul comando clicchiamo f1 e ci si apre l'help quindi possiamo andare a vedere un po' di spiegazioni e oppure noi sappiamo dalla formula di Eulero Rodriguez quindi per una rotazione attorno a un asse di un certo angolo qual è il template della matrice di rotazione in funzione appunto dei parametri asse angolo ora naturalmente per un vettore velocità angolare costante ω che è pari a una certa direzione un versore n costante per un modulo di velocità angolare costante quindi con questo ω che appartiene all'R3 a modulo costante e con n che non è altro che il versore che indica l'asse di rotazione attorno a cui stiamo rotando naturalmente possiamo costruire questa matrice R di T direttamente sfruttando il template della matrice di Eulero Rodriguez quindi questa è la evoluzione sarebbe l'equivalente di calcolare E alla ω cappuccio per T per la configurazione della R al tempo 0 d'accordo e quindi questo ci rappresenta in funzione del tempo T la configurazione attuale del nostro corpo rigido soggetto a una velocità angolare ω di modulo costante attorno ad un asse fisso nello spazio se vogliamo usare direttamente le funzioni attive di matematica utilizziamo questo matrix EXP e andiamo a campionare questa soluzione mediante un table per un T che va fra 0 a T con il nostro passo delta time che ci siamo andati a definire esattamente qua sopra e ecco per vedere un attimo cosa otteniamo possiamo definire un solido che rappresenta la configurazione del nostro solido di riferimento al passo iesimo di integrazione quindi il primo passo sarebbe la configurazione in realtà iniziale l'ultimo passo la configurazione finale e possiamo andare a vedere ad esempio il nostro solido in configurazione iniziale quindi questo è il solido questo dodecaedro che noi utilizzeremo per vedere quando andiamo a ruotare questo corpo rigido soggetto a una velocità angolare definita e noi andiamo a vedere come si è spostato come è ruotato a seguito dell'azione di questa velocità angolare utilizzeremo esattamente questo corpo per mostrare l'effetto della rotazione ok quindi diciamo che abbiamo noi adesso la possibilità in questa in questa sol noi abbiamo la nostra soluzione analitica rispetto alla quale ci confronteremo e andremo poi a utilizzarla per vedere le performance di vari metodi quindi ad esempio proviamo a testare i nostri metodi di integrazione per integrare quel sistema di equazioni differenziali matriciali riportato in forma vettoriale quindi cosa si può dire utilizzando Euler in avanti quindi prima ancora di cominciare cosa possiamo dire noi possiamo dire che vedete se noi trattiamo la rk più 1 come un rk più h per il campo calcolato al passo k quello che andiamo a vedere è che possiamo fattorizzare questa espressione rispetto a rk e vedere che la rk più 1 sarà pari a 1 più h per ω cappuccio che moltiplica rk cosa interessante è che se noi andiamo già adesso a calcolare dopo un passo fra il passo k mettete che sia il passo k uguale a 0 e il passo rk più 1 che sarebbe il passo 1 noi già possiamo ci possiamo già accorgere che il determinante della r dopo già un passo è esattamente pari al determinante del prodotto di queste due matrici che è uguale ovviamente al prodotto dei determinanti delle singole matrici cioè questa e la matrice rk e naturalmente siccome la matrice da cui partivamo ipotizzavamo che fosse una matrice di rotazione quindi la determinante più 1 è ok mentre in generale il determinante di i più h per ω cappuccio è diverso da 1 quindi possiamo andare a vedere ad esempio che la matrice dopo un passo vedete è l'identità iniziale più questa parte antisimmetrica dovuta al fatto che abbiamo questa ω che nel caso particolare è componenti 001 quindi ci troviamo diciamo il meno 1 qui moltiplicato per h con la matrice antisimmetrica e vediamo già che il determinante dopo un primo passo è pari a 1 più h quadro d'accordo? quindi anche se naturalmente il passo h è molto piccolo noi abbiamo già verificato che dopo un passo noi usciamo da SO3 cioè la nostra matrice non ha più determinante unitario e questo è a seguito dell'effetto del metodo di interazione quindi in altre parole la nostra matrice rk più 1 apparterebbe a SO3 se è solo se h uguale 0 ok? e notiamo anche se noi andiamo a calcolare il valore assoluto della differenza fra 1 che sarebbe il valore che dovrebbe avere il determinante della matrice se fosse effettivamente una dotazione rispetto al valore che ha il determinante già dopo un passo questo verifichiamo che questo è uguale a h quadro ok? quindi noi vediamo che sostanzialmente stiamo commettendo un errore sul valore del determinante di ordine di h quadro quindi noi cosa possiamo fare? possiamo andare a richiamare questa funzione forward Euler che va a integrare il nostro campo quindi il nostro right inside delle equazioni differenziali rispetto alle variabili indipendenti x a partire da x con 0 cioè l'identità srotolata in un vettore dall'istante iniziale fino al passo finale con questo nostro passo di integrazione e poi dopodiché andiamo a riapplicare questa sorta di partition 3 cioè andiamo a ritrasformare in matrici quello che qui sono evoluzioni temporali di un vettore quindi se noi ci andiamo a calcolare questa soluzione andiamo a vedere che giusto per andare a vedere un attimo cosa otterremo se noi andiamo a valutare quanto vale questa espressione vedete qui otteniamo tutta una serie di vettori questa è la condizione iniziale questo è dopo un passettino h dopo 2h e questi cosa sono? Sono vettori che hanno 9 componenti e se li andiamo a riformattare come questa è la prima riga questa è la seconda riga e questa è l'ultima riga questa rappresenta è il valore della matrice di rotazione srotolata dopo un passo di integrazione h utilizzando il metodo di eulero in avanti quindi se noi naturalmente vogliamo ripartizionare questi vettori in forma di matrice perché ci torna bene noi andiamo adesso ad applicare mediante un di fatto un map questa è la lezione della notazione infix per applicare un map con una funzione pura partition che prende l'oggetto lo divide lo raggruppa a blocchi di 3 quindi costruisce matrici 3x3 a partire da vettori 9 diciamo di dimensione 9 di solfe conterrà la soluzione del processo di integrazione utilizzando eulero in avanti se noi adesso ci costruiamo un solido che rappresenta l'evoluzione del nostro corpo rigido soggetto alla velocità angolare quando è stato quando la rotazione è stata calcolata integrando con eulero in avanti ci andiamo a di fatto mappare delle primitive grafiche su questa soluzione fe ok quindi alla soluzione fe iesima noi andiamo a far corrispondere la configurazione del nostro solido rotato a quell'istante esattamente con il metodo eulero in avanti d'accordo e quindi se noi adesso andiamo a vedere vedete andiamo a vedere cosa stiamo rappresentando qui stiamo rappresentando in contemporanea sia solid nella configurazione iesima cioè sia il corpo rotato secondo la rotazione calcolata in forma chiusa quindi con la formula corretta sia il solido nella sua configurazione diciamo iesima quando è stato quando però la sua rotazione è stata calcolata integrando numericamente quell'equazione differenziale quindi partiamo dalla configurazione iniziale definiamo un range di plot e andiamo a vedere cosa succede nel tempo ok? vedete cosa sta succedendo allora il corpo interno quello con spigoli spessi rappresenta il solido che sta ruotando a seguito di una rotazione attorno ad un'asse verticale z abbiamo detto che l'omega era pari a 001 quindi stiamo ruotando attorno ad un'asse verticale vedete qui c'è la x questa è la y e in verticale abbiamo la z quindi stiamo ruotando attorno ad un'asse esattamente verticale con la velocità angolare di modulo unitario naturalmente se facciamo ruotare il dodecaedro secondo la rotazione costruita con la soluzione in forma chiusa lui sta ruotando e naturalmente per definizione la matrice di rotazione non deve deformare il solido a cui viene applicata mentre se guardiamo questo esterno quindi con lo spigolo più debole qui stiamo andando a plottare l'effetto di ruotare il solido con una matrice di rotazione che però è stata calcolata integrando numericamente con l'erone avanti e quindi l'effetto è che questo metodo di integrazione in realtà come abbiamo visto siccome è associato a un valore del determinante della matrice che già dopo un passo è pari ad h al quadrato scusatemi è pari a 1 più h al quadrato il determinante è maggiore di 1 quindi vuol dire che questa rotazione non è effettivamente una rotazione rigida ma rappresenta anche un'espansione e questa espansione avviene nelle direzioni degli assi e x e y ok quindi esattamente quello che stiamo vedendo è cosa dovrebbe fare la rotazione quindi la rotazione calcolata correttamente dovrebbe ruotare il mio solido ok mentre la rotazione calcolata in maniera errata quindi con un metodo che non ne preserva la struttura va anche a deformarmi il corpo rigido a cui viene applicata quindi questo è un risultato molto molto importante ecco una cosa che ci possiamo chiedere è perché perché si ha un'espansione soltanto in direzione x e y e non in direzione verticale beh naturalmente se andiamo a guardare cosa c'è nel prodotto fra omega cappuccio e la matrice r noi andiamo a vedere sostanzialmente che di fatto vedete questa matrice in fondo ha 0 0 0 quindi naturalmente quello che succederà è che non si ha non si ha deformazione naturalmente in direzione in direzione z quindi non si hanno deformazioni crescite dei vettori in direzione in direzione z questa è una cosa abbastanza interessante potremmo anche andare diciamo a fare una considerazione di di questo tipo quindi data questa velocità angolare particolare la derivata del vettore z delle componenti del vettore z nel sistema di riferimento locale sono uguali a 0 potremmo anche in realtà considerare il fatto che l'auto valore 1 che è associato sempre in una matrice di rotazione che ha 3 autovalori e 3 autovettori quindi una matrice di rotazione tridimensionale c'è un auto un autovalore reale di valore unitario che è associato a un autovettore che ha componenti reali e due autovalori complessi coniugati che sono associati a due autovettori che sono anch'essi complessi e naturalmente si vede che se uno si va a calcolare il sistema di autovettori e autovalori quindi vedete qui abbiamo la lista dei tre autovalori quindi 1 1 meno i per h 1 più i per h quindi questo è l'autovalore unitario associato all'autovettore 001 che effettivamente rappresenta l'asse di rotazione di una matrice quindi potete sempre andare a ripescare l'autovalore associato all'autovalore unitario di una matrice e quello rappresenta la direzione dell'asse di rotazione mentre vedete gli autovalori associati alle direzioni in questo caso meno i1 0 e i1 0 cioè degli autovettori complessi che stanno nel piano xy sono associati a degli autovalori questi complessi coniugati che naturalmente non hanno modo unitario e che rappresentano di fatto il fatto che in quelle direzioni si hanno delle deformazioni delle fibre che sono disposte in direzione sul piano xy mentre non si hanno le deformazioni della fibra che è delle fibre che sono dirette come l'asse z esattamente perché quella è la direzione in cui si ha l'autovalore unitario ecco una cosa interessante adesso può essere quella di andare a guardare cosa succede se andiamo a considerare di applicare il metodo di integrazione di Eulero indietro quindi se andiamo a utilizzare Eulero indietro naturalmente cosa facciamo ci andiamo a scrivere che rk più 1 è uguale a rk più h per il valore del campo calcolato al passo k più 1 quindi ωk che in questo caso è costante per r all'istante k più 1 quindi vedete questa è un'equazione di tipo implicito come sempre in un ero indietro se noi adesso lo andiamo a risolvere rispetto a rk più 1 vedete il calcolo di questa rk più 1 in funzione di rk passa attraverso l'inversa di una matrice che è identità meno h per omega cappuccio interessantemente se noi adesso andiamo a calcolare il determinante di rk più 1 ci andiamo a calcolare il determinante dell'inversa di questa matrice identità meno h per omega cappuccio naturalmente vediamo che questo è diverso da 1 se lo andiamo a calcolare già dopo un singolo passo vediamo che effettivamente questo determinante vale 1 diviso 1 più h al quadrato quindi naturalmente il determinante della matrice che otteniamo già dopo un passo di integrazione utilizzando l'euro indietro è qualcosa che sarà minore di 1 quindi significa che in realtà la rotazione dovrebbe avere un determinante esattamente uguale a 1 perché non dovrebbe deformare quindi non dovrebbe essere naturalmente una trasformazione rigida in questo caso invece si ha una compressione quindi questa rappresenta sostanzialmente una inflazione una sorta di va a far collassare il corpo rigido che dovrebbe in realtà semplicemente ruotare una cosa che è interessante andare a analizzare è che ovviamente la matrice rk più 1 apparterebbe al gruppo SO3 se solo se h fosse uguale a 0 ma naturalmente perché possa esserci un passo l'integrazione h deve essere finito e naturalmente questo è associato a un errore intrinseco sul fatto che integrando la matrice in questo modo la matrice esce subito dal gruppo e non rappresenta più una matrice di rotazione ortogonale una matrice di rotazione propria e infatti se andiamo a calcolare qual è il valore assoluto della differenza fra 1 che è il valore del determinante che dovrebbe avere la matrice in maniera rigorosa e il determinante del valore attuale della matrice vediamo che questo è pari a h quadro diviso 1 più h quadro naturalmente vediamo che questo è minore di h quadro quindi vuol dire che questa approssimazione comunque è meglio è migliore rispetto alla precedente cioè rispetto a utilizzare eulero in avanti però ad ogni modo noi siccome sappiamo abbiamo verificato che la nostra rk più 1 sicuramente è minore di 1 questa cosa diventa sempre più sempre sempre peggio perché queste contrazioni si accumulano man mano che vada a integrare per passi in integrazione successivi quindi ci aspettiamo sicuramente una contrazione del nostro dodica edro invece di una semplice rotazione come dovrebbe essere quindi cosa andiamo a fare con la stessa logica di prima andiamo ad applicare questa funzione backward Euler al nostro campo f in funzione della variabile indipendenti x a partire da y con 0 sempre nel nostro intervallo temporale nel nostro orizzonte temporale t-end con un passo di integrazione pari a delta time e quindi se noi adesso andiamo a mappare queste funzioni grafiche alla soluzione e la andiamo a definire a un passo generico adesso possiamo andare a vedere come si comporta il nostro corpo che viene rotato con questa rotazione che in realtà non è una rotazione ma è di fatto una contrazione rispetto all'integrazione rigorosa in forma chiusa e andiamo a visualizzare effettivamente l'effetto di questa contrazione come un effetto su cosa succede al dodecaedro rosso quindi quello trasparente è come dovrebbe rotare se effettivamente l'integrazione fosse fatta correttamente utilizzando l'ero indietro vado a fare una contrazione quindi vado sostanzialmente a deformare anche i corpi che dovrei semplicemente andare a ruotare quindi andiamo appunto a vedere di nuovo che se andiamo ad integrare il nostro sistema di equazioni differenziali corrispondenti a questa rotazione dettata dalla velocità angolare unitaria lungo l'asse z utilizzando l'ero indietro quello che si va ad ottenere di fatto è una contrazione perché come abbiamo visto il determinante già dopo un primo passo è minore di 1 quindi infatti possiamo andare ad esempio in questo caso a guardare qual è il sistema di autovettori e autovalori che in matematica si chiama con questo comando eigen system che ci fornisce effettivamente che permane l'autovalore unitario associato all'autovettore 001 quindi esattamente quello associato all'asse di rotazione per cui le fibre lungo l'asse di nuovo non sono deformate ma le fibre nel piano x y sono in realtà scorciate man mano che passa il tempo quindi in virtù del durante il tempo di integrazione vedete infatti si ha una una contrazione nella direzione x e y mentre l'altezza complessiva rimane rimane invariata vedete non si ha schiacciamento in direzione dell'asse z naturalmente dopo un po' poi questo questo solido sparirebbe perché la sua contrazione diciamo lo farebbe diventare monodimensionale ok quindi ecco giusto per avere un'idea dei vantaggi quindi qui diciamo adesso non è che vogliamo entrare in una trattazione avanzata delle metodi di integrazione ma semplicemente volevamo far vedere che bisogna stare molto attenti a integrare equazioni differenziali matriciali questo perché in realtà le componenti di una matrice di rotazione non possono essere trattati come elementi vettori di uno spazio lineare perché appartengono in realtà ad una varietà che è SO3 e quindi se noi andiamo a applicare degli schemi di integrazione classici noi andiamo a violare la struttura intrinseca di questi oggetti e quindi li facciamo uscire dal gruppo in cui vivono questa varietà in cui vivono cioè SO3 e di conseguenza quello che succede è che si perdono delle proprietà che dovrebbero essere naturalmente verificate perché sarebbero associate naturalmente al fatto che una matrice di rotazione deve essere una rotazione quindi deve avere sicuramente determinante unitario ecco se noi invece adesso andiamo a utilizzare il metodo di Runghekutta adesso andremo a magari a guardare poi più in dettaglio all'interno del codice ODSOLVE come sono implementati questi integratori e ad ogni modo se noi andiamo a utilizzare questo metodo sul nostro stesso equazione differenziale che rappresenta la rotazione attorno all'asse verticale con velocità angolare unitaria e immagazziniamo la soluzione in questo SOL RK dopodiché andiamo a guardare ad ogni passo di integrazione milleiesimo il solido corrispondente alla rotazione calcolata integrata con Runghekutta e andiamo a fare il confronto con la soluzione analitica quindi quella in forma chiusa vediamo che in questo caso possiamo anche magari un pochino rallentare vedete in questo caso nel tempo di integrazione di fatto la deformazione che si ha è abbastanza piccola perché naturalmente il metodo di Runghekutta è un metodo di ordine più elevato e di conseguenza significa che l'errore che viene commesso nell'integrazione è di ordini superiori rispetto ai metodi di Euler avanti e di Euler indietro quindi ad esempio sicuramente questo è una cosa che è abbastanza nota come dire per fare un po' di considerazione finale per andare un pochino a stringere sui risultati finali come un indice per misurare la qualità dell'integrazione numerica possiamo usare la cosiddetta norma di Frobenius di una matrice cioè in particolare andare a guardare la norma della soluzione cioè della matrice errore che si commette fra la matrice reale e la matrice R approssimata quindi sappiamo che la R deve evolvere per rappresentare una dotazione attorno a un asse verticale la R approssimata a seconda del metodo di integrazione mi crea anche delle deformazioni posso andare a calcolarmi la matrice proprio differenza cioè la matrice differenza elemento per elemento e ad andare di questa matrice differenza che vado a chiamare A calcolare la norma di Frobenius che è una norma matriciale che di fatto rappresenta la norma euclidea di un vettore che è costruito prendendo gli elementi della matrice e risrotolandoli su un unico vettore ok quindi la norma di Frobenius è esattamente questa quindi se noi adesso andiamo a plottare la norma di Frobenius dell'errore fra la matrice rigorosa e la soluzione ottenuta integrando in maniera rigorosa in forma chiusa la rotazione oppure integrandola con un errore in avanti oppure integrandola con un errore indietro oppure integrandola con un geccuta si vede bene che si ha un andamento di questo tipo cioè in particolare si vede che in orizzontale si riportano il numero di iterazioni in ordinata si riporta la norma dell'errore quindi la norma di Frobenius della matrice differenza fra quella rigorosa e quella approssimata e si vede che man mano che le iterazioni procedono la la norma dell'errore della matrice calcolata con Euler in avanti quindi Forward Euler cresce in questo vedete in maniera abbastanza repentina secondo questo andamento verde mentre Euler indietro cresce un pochino meno mentre vedete Runge Cutta è abbastanza spiaccicato in direzione dell'asse delle ascisse a dimostrare che naturalmente la norma dell'errore cresce molto più lentamente al procedere delle iterazioni e quindi questo giustamente spiega perché vedete possiamo arrivare ad integrare fino al nostro tempo finale senza di fatto quasi apprezzare il fatto che stiamo diciamo integrando se volete in anello aperto senza tener conto del fatto che questa matrice potrebbe uscire da SO3 quindi il metodo di integrazione è sufficientemente diciamo preciso per far uscire molto molto lentamente la matrice di rotazione da SO3 ecco una cosa che può essere interessante sapere è come si fa a proiettare in SO3 una matrice in particolare vediamo che è un modo comodo utilizzando il metodo di valore singolare cioè in sostanza la domanda che ci poniamo è noi ad ogni passo di integrazione K noi quello che ci poniamo vogliamo calcolare la matrice di rotazione RK tilde che appartiene a SO3 che quindi rappresenta la proiezione di RK che invece non appartiene a SO3 su SO3 quindi ci chiediamo qual è la migliore approssimazione appartenente a SO3 di una matrice che a SO3 non appartiene che è il risultato della nostra integrazione utilizzando dei metodi che commettono dell'errore e quello che si può fare è che si può trovare questa proiezione su SO3 di una matrice RK che non appartiene a SO3 cercando di minimizzare la norma di Frobenius della differenza fra la matrice che non sta su SO3 e la sua corrispondente proiezione e si può dimostrare questi diciamo sono i risultati noti in letteratura potete cercare dei riferimenti anche direttamente in maniera autonoma che la soluzione a questo problema è calcolata in questo modo cioè questa RK tilde quindi la matrice di rotazione che sta su SO3 che è più vicina ad una RK data è costruita come U per una matrice così fatta per V trasposto dove U e V cosa sono? sono le matrici sinistre e destre della decomposizione dei valori singolari della matrice RK di partenza cioè se noi prendiamo la nostra matrice RK di partenza quella che non è una rotazione ne facciamo la decomposizione dei valori singolari quindi la scriviamo come una fattorizzazione per cui abbiamo una matrice U ortogonale una matrice sigma diagonale una matrice V ortogonale questa ricostruzione della matrice V è trasposto e cosa facciamo? la nostra matrice RK tilde è costruita utilizzando la matrice U e la matrice V trasposto della decomposizione dei valori singolari di RK solo che al posto della matrice sigma ci viene messa una matrice diagonale che vedete ha quasi sembra quasi l'identità solo che in posizione 3 3 mettiamo uno scalare sigma che è pari al determinante di U per V trasposto e noi calcoliamo ci calcoliamo una matrice U per V trasposto e noi calcoliamo il determinante questo è un valore sigma che potrà valere più o meno 1 in generale e lo mettiamo qua questa qualche commento breve su questo tipo di cosa rappresenta sigma diciamo in una decomposizione di valori singolari in sostanza rappresenta un'informazione sulla deformazione dello spazio che è diciamo generato moltiplicando lo spazio precedente per RK quindi noi questa sigma la andiamo a rimuovere perché vogliamo ripulire le deformazioni U e V hanno informazioni sulle rotazioni cioè su quanto viene rotato lo spazio a seguito dell'applicazione della matrice di RK e quindi noi teniamo queste informazioni solo che vedete perché ci mettiamo questo sigma perché se l'errore è tale per cui la nostra matrice RK addirittura avesse determinante minore di 0 quindi vorrebbe dire ad esempio che la nostra matrice assomiglia più a una riflessione quella che noi abbiamo integrato facendo magari un errore macroscopico rispetto a una rotazione allora in quel caso per una riflessione il determinante di U per V trasposto sarebbe qualcosa di minore di 0 d'accordo e quindi le matrici U e V di per sé non sarebbero delle matrici di rotazione ma sarebbero delle eventualmente una rotazione una riflessione complessivamente il loro determinante sarebbe negativo quindi se noi qui al posto di sigma ci andiamo esattamente a mettere il determinante di U per V trasposto noi andiamo di fatto a compensare l'eventuale errore che c'è nei segni diciamo di U e V trasposto in modo tale che il determinante di RK tilde sia esattamente pari a P1 e di conseguenza la nostra approssimazione sia effettivamente una rotazione propria quindi questo è quello che noi andiamo a fare questa funzione che va di fatto a costruire la proiezione su SO3 di una matrice data quindi più vicina la nostra matrice data in norma di Frobenius è costruita in questa matrice che si chiama 2SO3 quindi su SO3 quindi se io vado a mappare una matrice una funzione che mappa su SO3 la lista delle matrici che erano ottenute con l'aero in avanti io vado a calcolarmi la nostra soluzione mappata su SO3 quindi se adesso io vado a associare il solido che viene rotato con queste rotazioni integrate con l'aero in avanti ma curate cioè proiettate su SO3 io vado a vedere cosa vado a realizzare quindi se vado a confrontare questa integrazione se volete curata cioè riproiettata su SO3 rispetto al valore rigoroso noi andiamo a vedere che effettivamente adesso quello che andiamo a trovare in effetti è una rotazione ok quindi andiamo a mettere a posto le cose quindi se avevamo integrato un po' malamente possiamo comunque ripulire diciamo della sporcizia numerica che c'è andata nelle matrici di rotazione per farle ritornare effettivamente quantomeno ad essere matrici che sono di SO3 quindi sono delle vere e proprie rotazioni eh questo chiaramente non ci garantisce che su SO3 poi le varie le varie le varie matrici si trovano nella posizione giusta di dove dovrebbero essere quelle quelle rigorose no? quelle ottenute integrando in forma chiusa la soluzione la soluzione vera però quantomeno sappiamo che otteniamo delle soluzioni che sono delle rotazioni d'accordo? quindi quantomeno non facciamo degli errori diciamo grossolani di andare addirittura a deformare i corpi a cui applichiamo e se qui adesso andiamo a a vedere vedete andiamo a rimuovere ad esempio Euler indietro vediamo Euler in avanti quest'andamento in funzione delle iterazioni della norma dell'errore RK4 questa curva diciamo color magenta Euler in avanti proiettato vedete è molto meglio rispetto che calcolare Euler in avanti in maniera così molto grossolana quantomeno riduco molto la norma dell'errore che vado a fare naturalmente un po' di errore mi ci rimarrà perché ovviamente sono su SO3 ma non sono esattamente nei punti corrispondenti alla soluzione ma quantomeno sono su SO3 ora un ulteriore metodo chiaramente per integrare un'equazione differenziale matriciale che rappresenta una rotazione in realtà è usare una parametrizzazione di SO3 e quindi rimanere se volete su SO3 per costruzione ma attenzione attenzione però alle singolarità quindi quello che facciamo è questo come abbiamo visto a teoria andiamo a definire un vettore Q che rappresenta triangoli ad esempio φθ e ψ ok e abbiamo visto da certi calcoli che possiamo ottenere una relazione tra le componenti della velocità angolare e le derivate di questi angoli di una parametrizzazione che abbiamo scelto in particolare questo legame passa attraverso il giacobiano spatial quindi il giacobiano diciamo della velocità angolare che mappa le derivate degli angoli della parametrizzazione nelle componenti della velocità angolare interna fissa quindi interna spatial di conseguenza noi possiamo adesso se ci viene data in ingresso la velocità angolare semplicemente invertendo il giacobiano possiamo calcolare come deve evolvere qual è l'equazione differenziale stavolta non in termini di elementi della matrice di rotazione ma direttamente in termini di angoli della parametrizzazione siccome poi questi angoli vengono forniti all'interno di una matrice template che per costruzione sta su SO3 anche se su questa equazione differenziale noi facciamo diciamo dei piccoli errori sicuramente la matrice di rotazione costruita diciamo nutrita con i valori degli angoli è comunque una matrice di SO3 e quindi noi cosa facciamo andiamo a vedere ad esempio che ci possiamo utilizzare come un parametrizzazione ZYZ quindi questa funzione EUL ZYZ to MAT applicata a Q quindi questa è la funzione APPLY di fatto mi va a definire come è fatta una matrice di rotazione quindi possiamo andare a vedere ad esempio che la RZYZ di FI THETA THETA E PSI se le vogliamo vedere come matrix form vedete questa di fatto è la funzione che presa in ingresso la tripletta gli angoli interpretata come una sequenza ZYZ quindi una 3,2,3 mi dà la matrice corrispondente la matrice di rotazione corrispondente quindi se noi questa matrice ok questa matrice di rotazione invece il giacobiano spaziale associato a questa parametrizzazione in funzione degli angoli si calcola semplicemente come EUR ZYZ to spatial Jack quindi dalla tripletta al giacobiano spaziale semplicemente si chiama questa funzione questa funzione poi fornisce una matrice che è il giacobiano questo JS andiamo a invertire il JS lo semplifichiamo e questa rappresenta esattamente la JS alla meno 1 quindi definita come invJS se andiamo a moltiplicare a definire right and side di questa equazione cioè il campo questa quantità qua come right and side facciamoli l'invJS di phi theta e psi per omega dove omega naturalmente la nostra velocità angolare è 0,01 quindi definiamo i right and side ci calcoliamo i valori iniziali degli angoli ZY associati alla configurazione di R al tempo 0 che abbiamo ipotizzato prima essere uguali all'identità naturalmente all'identità i valori della parametrizzazione sono tutti e tre 0 perché l'identità anche in parametrizzazione ZY la associamo la determiniamo quando gli angoli della tripletta ovviamente è una tripletta nulla visto noi adesso utilizzando anche semplicemente all'erone avanti integriamo questo right and side in funzione delle variabili indipendenti Q a partire da Q0 nell'intervallo temporale che vi ho visto prima ci calcoliamo la nostra soluzione possiamo costruirci le prime telegrafiche che ruotano il nostro decaedro sulla base di questa rotazione effettivamente la andiamo a confrontare con la rotazione il solito che ruota in maniera rigorosa sulla base di una soluzione ottenuta per la matrice di rotazione in forma chiusa effettivamente vediamo che di fatto non c'è differenza in particolare possiamo vedere anche perché se andiamo a confrontare la norma dell'errore fra la soluzione approssimata integrando parametrizzazione z y z e la rigorosa vediamo che effettivamente la norma è trascurabile qui siamo nell'ordine della precisione di macchina cioè 10 alla meno 13 al vero delle integrazioni quindi ma che sta succedendo ci chiediamo cioè ok quindi anche se abbiamo usato un metodo di integrazione numerico e un erro in avanti che era il più spreciso in realtà abbiamo praticamente ottenuto una soluzione esatta quindi cosa sta succedendo in questo caso sta succedendo qualcosa di diciamo di molto speciale cioè il nostro corpo sta ruotando attorno all'asse z con velocità angolare costante e il nostro angolo z è il primo angolo della parametrizzazione di conseguenza in questo caso il nostro right hand side è pari a 1 0 0 quindi noi stiamo integrando di fatto un'equazione differenziale in cui di fatto stiamo scrivendo che soltanto la velocità angolare associata al primo z è pari a 1 e quindi di fatto questa è un'equazione differenziale banale da da integrare anche utilizzando eolero in avanti no è la cosa che quindi diciamo da un certo punto di vista in generale utilizzando una parametrizzazione ci assicura che noi rimaniamo su SO3 per costruzione perché noi anche se andiamo a commettere un errore nell'integrazione degli angoli quando questi angoli vengono messi all'interno della matrice template questa matrice rappresenta per costruzione una rotazione propria d'accordo solo che quali sono i problemi in questo caso sono i problemi legati alle singolarità ok alle singolarità della parametrizzazione perché ad esempio basta che noi chiediamo di ruotare di una velocità angolare che non è pari a 0 0 1 come abbiamo fatto prima ma è che quindi sarebbe associato ad un angolo che qui viene rappresentato come 90 gradi sarebbe rappresentato quindi l'angolo misurato fra l'asse di rotazione e sostanzialmente l'asse delle y se noi già ci mettiamo 89 gradi quindi stiamo di fatto ruotando attorno a un asse che praticamente è quasi l'asse z ok che succede la nuova omega è un nuovo vettore il nuovo right and side vedete stavolta dipende anche da θ e da φ e la cosa interessante è che anche se noi andiamo a guardare anche semplicemente il primo termine di questo right and side lo andiamo a plottare per φ e θ che variano all'interno del loro range di variazione vedete che questo right and side sostanzialmente ha dei valori veramente ballerini cioè che vanno che divergono quindi in realtà questo ci dice che se va andare ad utilizzare una parametrizzazione minima per andare a integrare una matrice di rotazione attorno ad un asse che in realtà comporta delle variazioni diciamo strane delle componenti delle rotazioni degli angoli questa cosa ci dà dei grossi trulemi quindi bisogna stare molto attenti quando si vanno ad integrare gli angoli di una parametrizzazione perché potremmo essere soggetti chiaramente ad incappare in singolarità e questo naturalmente se uno non si accorge di questo ma va ad applicare ad esempio l'aeronavanti a integrare questo nuovo right and side che prevede dei salti molto strani e l'attraversamento di singolarità naturalmente quello che succede è che vi vengono forniti dei messaggi per cui vengono trovati fondamentalmente delle espressioni per cui ci sono delle divisioni per zero e quindi complex infiniti quindi naturalmente questo non porta niente di buono e se naturalmente noi adesso chiediamo di andare a portare che succede questa cosa non funziona d'accordo quindi questo ci dice che bisogna stare molto attenti quando andiamo a integrare matrici di dotazione passando attraverso le parametrizzazioni minime di SO3 d'accordo quindi questa è una cosa molto importante per cui molto meglio se volete andare direttamente a integrare le componenti di elementi della matrice di dotazione eventualmente riproiettando se commettete un grosso errore e utilizzando degli schemi di ordine piuttosto basso tipo l'aeronavanti piuttosto riproiettando con queste funzioni 2SO3 almeno sul gruppo come abbiamo fatto come abbiamo fatto esattamente qui con questa funzione 2SO3 d'accordo? quindi questa è una considerazione direi abbastanza importante giusto una piccola osservazione su cosa c'è all'interno di questo package odsolve così potete diciamo un po' esplorarlo e andare a guardare qui siamo all'interno del pacchetto odsolve qui ci sono naturalmente questo usage runghe cuta forward oiler backward oiler qui c'è anche crank nicholson se volete ad esempio questo usage è esattamente quello che viene rimbalzato a video nel momento in cui ad esempio voi andate a chiamare l'help di di quel metodo lì quindi esempio ad esempio a facestep non c'è non c'è commento vediamo però come l'ho chiamato un secondo scusatemi quindi l'ho chiamato esplicamente forward oiler qui se cerco lo usage di forward oiler vedete mi spiega che io qui ci devo andare a mettere proviamo a ingrandire un pochino qui ci devo andare a mettere il mio campo quindi la mia f diciamo la mia f di x qui ci vado a mettere la x qui ci vado a mettere le condizioni iniziali qui ci vado a mettere il risonso temporale e qui il passettino vedete integra numericamente le funzioni f con i funzioni delle x con i con valori iniziali x con i al tempo 0 l'integrazione procede in step di delta t fra 0 e t1 e attenzione qui c'è ora una cosa che vedremo si possono integrare anche dei sistemi non autonomi utilizzando semplicemente un overloading di una funzione che adesso andremo un attimo a vedere quindi se torniamo un attimo sul nostro codice se torniamo un attimo sul nostro codice ok la cosa interessante è vedere come di fatto la struttura quindi andiamo a prendere ad esempio per semplicità il metodo di Eulero in avanti che è definito qua questo metodo fondamentalmente consiste di tre funzioni consiste di tre funzioni questa forward Euler step la forward Euler che si applica all'integrazione di campi diciamo autonomi quindi sistemi autonomi quindi in cui una F è a funzione dello stato ma non esplicitamente del tempo mentre questa forward Euler l'ultima versione si applica come pattern all'integrazione di campi tempo varianti quindi in cui la F in cui il campo F non dipende soltanto dallo stato ma dipende anche esplicitamente dal tempo e andiamo a vedere un attimo qual è l'idea alla base di questo di questo di questo metodo di questo metodo quindi riprendiamo proprio giusto un attimo delle note e così ci possiamo ragionare ci possiamo ragionare meglio ecco quindi possiamo vedere un po' come come che ragioniamo quindi nel nostro package od.solve quello che facciamo è appunto integriamo il nostro sistema di equazioni differenziali ordinarie inizialmente tempo invarianti che sono scritte come un y punto uguale F di y dove il nostro F di y non è il campo in funzione del nostro stato che viene definito y con la condizione che y al tempo 0 è uguale a y con 0 quindi con Euler in avanti con passo h quando faccio un passo cosa faccio mi calcolo a k1 che è uguale a h per f calcolato a y iniziale e la nuova y con 1 è uguale alla y con 0 più questo k1 d'accordo quindi esattamente questo con questa logica al passo successivo cosa farò calcolerò che k2 è uguale al passo h per il campo calcolato a y con 1 e quindi y con 2 sarà poi a y con 1 più k2 d'accordo ecco per fare questo tipo di ragionamento posso proficuamente utilizzare le funzioni di matematica che si basano sulla programmazione funzionale in particolare una molto molto comoda è la cosiddetta nest list come funziona la funzione nest list quindi se io chiamo ad esempio la mia funzione nest list con argomento g x e 3 cosa vuol dire vuol dire che quello che mi dà in uscita è una lista costruita in maniera annidata nel senso che come primo elemento quindi questo è il valore iniziale che viene preso e messo qua poi viene applicata questa funzione all'argomento x e questo risultato viene messo in seconda posizione dopodiché cosa viene fatto viene applicata di nuovo la funzione g ma non più alla x ma a questo g di x e quindi il risultato è una g di g di x che diventa l'argomento di questa ok dopodiché questa cosa viene ripetuta quindi viene applicata di nuovo una g a questa versione e quindi otteniamo una g di g di g di x quindi questo numero che viene messo qui rappresenta quante volte viene annidata nell'ultimo elemento della lista la funzione sull'argomento iniziale d'accordo? allora come si può fare a fare questo tipo di ragionamento? quindi se io vado a definirmi una funzione che chiamo f con e che mi prende in ingresso il nome della funzione che voglio applicare y rappresentano gli argomenti cioè le variabili indipendenti y con 0 rappresenta la condizione iniziale e a in h ci metto il passettino quindi se io mi definisco una funzione f con e che mi prende questi quattro argomenti e mi da in uscita cosa? il valore del primo passo la prima soluzione dopo un passo di integrazione quindi y con 0 più h per f calcolato a y con 0 no? quindi quello che ho qui in uscita sarebbe quello che io definisco come y con 1 ok? quindi se adesso io vedete faccio questo tipo di operazione qui a livello di sintassi ci manca un end commerciale eh? quindi se io vado ad applicare il nest list con la funzione pura definita in questo modo che si lascia libero questo slot che di conseguenza viene valutato su questo dopodiché questa procedura viene fatta in maniera annidata per tre volte quello che c'è in uscita è y con 0 questo valore è quello che ho preso qui e viene direttamente rimbalzato in prima posizione dopodiché calcolerò la f con e a partire dalla y con 0 ma la f e calcolata a partire dalla y con 0 mi dà esattamente la y con 1 ok? se adesso questa operazione viene ripetuta su questa versione di fatto non sto facendo altro che calcolare h f di y con 1 più y con 2 quindi qui io ho esattamente y con 2 se poi questa funzione viene riapplicata a questo in uscita avrò naturalmente y con 3 ok? quindi avrò esattamente in uscita la y con 3 che rappresenta diciamo il risultato finale quindi dove sono arrivato ad integrare il mio sistema dopo 3 passi d'accordo? quindi questo è il valore iniziale dopo un passo dopo il secondo passo dopo il terzo passo quindi se volete in maniera più esplicita per capire come avviene diciamo questo annidamento la y con 1 è la f e di f y y con 0 h la y con 2 cosa fa? è la f y a partire dalla y con 1 che è esattamente questa cosa qua ok? riapplicata con l'argomento h dopodiché la y con 3 è la f e applicata a questa f e qua che finisce vedete dove ci sono le parentesi verdi no? che è esattamente questa cosa qua e quindi qui in uscita sciola esattamente la y con 3 eh? quindi questo è esattamente quello che stiamo facendo adesso all'interno del codice perché se io adesso vado a a guardare cosa cosa ho fatto nel codice e lo andiamo un pochino a ingrandire perché si possa vedere meglio vedete quello che vado a fare è vado a definire una funzione f step che prende dentro il campo la vera vela indipendente il valore iniziale e il passettino delta t di integrazione quello che noi abbiamo chiamato h questo viene inserito all'interno di un modulo in cui definiamo una variabile locale k1 che è esattamente la nostra funzione f calcolata per la y che vale localmente y con 0 moltiplicato per h questo è k1 y0 più k1 è y con 1 no? quindi quando io vado a chiamare la mia funzione forward-heuler di fatto cosa fa? prendo esattamente una f un nome della funzione che definisco essere una lista perché in generale assumo di avere un campo vettoriale una y che è un vettore le condizioni iniziali il tempo finale e il passettino e cosa faccio? vado a mettere all'interno di questa funzione nest list il passettino vedete la funzione definita precedentemente f e step in cui ho definito questa funzione una funzione pura vedete questo lo riconoscete dalla presenza del cancelletto e del land commerciale quindi questa funzione viene naturalmente inizializzata viene applicata a questo elemento qui che è il valore iniziale della nostra la nostra condizione iniziale in termini di lo stato iniziale in maniera annidata procede quante volte esattamente il numero di volte in cui delta t sta in t1 arrotondato ok? quindi il numero di passi che mi consente di arrivare di partire da zero e di arrivare come orizzonte temporale a t1 eh? qui ci sono dei check sulle dimensioni che le cose siano congruenti eh? ecco questa ultima versione quindi sotto di diciamo di overloading di funzione che consente di andarla a applicare anche in condizioni di sistema non autonomo appunto lo vediamo un attimo qui velocemente riprendendo le nostre note quindi quello che noi adesso andiamo a guardare è che per delle equazioni differenziali ordinarie tempo varianti quello che la struttura è che la nostra y punto è uguale a f funzione di y e t con y che al tempo zero vale un certo y con zero cioè le condizioni iniziali no? quindi io devo integrare questo sistema di equazioni differenziali in generale non lineari tempo varianti perché il tempo appare esplicitamente all'interno del nostro campo quindi il campo cambia col tempo d'accordo? bisogna capire esattamente in quale intervallo temporale ben preciso dobbiamo integrare perché il campo cambia cambia col tempo no? quindi come si può fare a recuperare diciamo il pattern che noi abbiamo definito per le funzioni tempo invarianti anche in questo caso? lo stratagemma è molto semplice probabilmente lo lo conoscete già da altri corsi è quello di definire uno stato aumentato che andiamo a chiamare x in questo caso no? che prevede di giustapporre allo stato y che è lo stato diciamo originario una variabile scalare lambda con lambda che è definita uguale esattamente al tempo ok? quindi quando noi andiamo a scrivere la dinamica del nostro sistema in funzione dello stato aumentato andiamo a scrivere che x punto è uguale a cosa? è y punto e sotto abbiamo lambda punto ora il nostro y punto lo andiamo esattamente a recuperare da qui in cui noi calcoliamo il nostro campo in funzione dello stato originario y e di questa variabile lambda ma dopodiché scriviamo anche la dinamica in lambda cioè lambda punto cosa è uguale cosa è uguale la derivata di lambda rispetto al tempo siccome lambda è esattamente uguale al tempo quando deriviamo del lambda su dt stiamo facendo dt su dt cioè otteniamo 1 quindi lambda punto è uguale a 1 in effetti lambda deve essere uguale al tempo quindi diciamo la sua dinamica lambda punto uguale a 1 cioè t punto uguale a 1 vuol dire fondamentalmente che noi integrando integrando quella cioè l'integrale di lambda punto deve essere il tempo e quindi ci ritroviamo come ultimo stato di questo stato aumentato esattamente come scorre il tempo naturalmente andiamo a mettere nello stato aumentato in condizione iniziale x al tempo 0 lo definiamo come is con 0 e ci andiamo a mettere lo stato originale al tempo 0 e il tempo iniziale da cui cominciamo a integrare perché stavolta dobbiamo diciamo ancorare il nostro sistema anche al tempo perché il sistema è tempo variante altrimenti se lo integriamo in tempi diversi naturalmente il nostro sistema il nostro campo è differente e quindi perché giustamente in questo caso è fondamentale tenere traccia del tempo 0 iniziale perché il campo dipende dal tempo essendo tempo variante d'accordo e di conseguenza come si fa a fare questa questa operazione a fare questa operazione nel nostro codice possiamo semplicemente riprendere il nostro codice e andare a vedere cosa che abbiamo fatto quindi la forward oiler in funzione di un pattern diverso quindi abbiamo fatto una sorta di overloading di queste funzioni cioè funzioni che si comportano in maniera diversa a seconda degli argomenti diversi che prendano quindi la nostra forward oiler può prendere anche di nuovo un campo le variabili indipendenti che rappresentano lo stato lo stato originario le condizioni iniziali nello stato originario però vede se invece di metterci semplicemente l'orizzonte temporale t1 quindi il tempo finale e il passettino delta t ci mettiamo anche ci mettiamo t t0 t1 delta t significa che vogliamo integrare in realtà un sistema che è tempo variante in cui la variabile indipendente è anche il tempo e quindi cosa facciamo definiamo una variabile locale all'interno di un modulo questo res che è cosa la la chiamata la funzione precedente in cui però al posto di del campo f ci mettiamo f1 cioè giusto apponiamo ad f1 perché questa è esattamente come appare la dinamica come abbiamo visto nelle note abbiamo che lambda punto è uguale a 1 quindi il right inside del nostro campo associato alla lambda punto è esattamente pari a 1 le variabili indipendenti diventano y e t ok appendiamo anche alla condizione iniziale nello stato la condizione iniziale del tempo cioè qual è il tempo da cui cominciamo a integrare e qui ci andiamo a mettere diciamo l'orizzonte temporale come t1 meno t0 cioè ci interessa di sapere in quale range stiamo integrando e con quale passo ok quindi vi faccio notare che questi argomenti sono argomenti che possono essere naturalmente dati in ingresso alla forward oil tempo invariante e quindi semplicemente poi qui cosa andiamo a fare andiamo a prendere il risultato e andiamo a buttarvi l'ultimo argomento perché diciamo in realtà sappiamo che il tempo scorre come lo facciamo scorrere noi in questa lista e di conseguenza ci troveremo come ultima componente dello stato aumentato esattamente il tempo che a noi di fatto non ci non ci interessa poi più di tanto non ci interessa più di tanto e quindi di fatto quello che andiamo a andiamo a fare è semplicemente vedete utilizzare una struttura molto semplice in cui definendo tre funzioni utilizzando la programmazione funzionale ci siamo implementati e ovvero in avanti per sistemi tempo invarianti e tempo varianti e li abbiamo poi utilizzati in maniera molto proficua per integrare di fatto dei sistemi di equazioni differenziali non lineari matriciali avendo poi modificato la struttura da matrice a vettori avendo utilizzato il flat come abbiamo visto precedentemente quindi vi faccio osservare che questa stessa logica è utilizzata esattamente anche per quanto riguarda l'implementazione del metodo di oleo indietro quindi semplicemente esattamente con la stessa logica lo step che devo fare l'implementazione col nest list nel momento in cui andiamo a integrare un sistema tempo invariante e l'estensione al tempo variante naturalmente ci possiamo implementare anche il passo di runghecutta quindi lo step di runghecutta vedete è un pochino più complicato ma insomma molto poco quindi di fatto abbiamo scaricato diciamo la difficoltà di implementazione del metodo nel singolo passo che poi viene richiamato esattamente uguale a se stessa semplicemente chiamando opportunamente il nome del passo perché poi strutturalmente tutte le altre funzioni sono esattamente identiche quindi probabilmente le potremmo anche ulteriormente semplificare quindi spero che la esercitazione sia stata chiara spero che vi così vi faccia un po' pensare a cose che probabilmente potevano non essere chiare o comunque vi possa dare degli spunti di riflessione naturalmente avete i codici avete le dispense avete il materiale se ci fossero dei dubbi o delle osservazioni naturalmente ne possiamo certamente riparlare quindi con questo vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione per l'attenzione per l'attenzione per l'attenzione